Esordio con vittoria per Alitas Trentino alla BLM. Gruppa Arena sconfigge per 3-1 l'Emma Villas Obey Siena, formazione neopromossa ma con un roster tutto di rispetto tra gli ex Trentino in campo con il centrale Daniele Mazzone, l'attaccante Martin Van Gardere nell'opposto Giulio Pinali premiato a inizio match con una targa ricordo proprio per la scorsa stagione giocata con Trento. 25-16, 25-21, 23-25, 25-17. I parziali migliori in campo il giovanissimo libero fresco campione europeo under 20 Gabriele Laurenzano autore di alcuni interventi davvero di pregio che hanno salvato in più casi la situazione per Alitas. Per il resto da segnalare un'altra grandissima prova per Mattei Kazischi soprattutto al servizio con ben 5 ace firmati dal capitano che chiude con 2 muri punto e il 53% in attacco dove ha siglato 19 punti. Buona la prova anche per Alessandro Micheletto che invece è stato premiato assieme al mister Lorenzetti quale miglior giovane under 23 Alessandro, quale miglior mister della scorsa stagione Lorenzetti. Alessandro contro Siena ha messo giù 17 punti in attacco, 1 ace e 3 muri punto ma andiamo a sentire proprio i protagonisti di questo match a partire dal capitano Mattei Kazischi. Oggi è andata bene soprattutto in battuta, sono molto contento, è una partita non semplice perché ovviamente siamo da poco insieme e quindi qualcosina da sistemare c'è sempre però ottimo risultato e ottima partenza di campionato. All'inizio devo dire la verità quando sono entrato in campo stavo venendo da quest'altra parte perché l'anno scorso sono venuto d'avversario però appena iniziata la partita le emozioni erano tante, tutti i tifosi che tifavano per noi ed è stato davvero bello.